La manovra economica che è stata approvata ha due obiettivi, il sostegno e il rilancio dell'economia italiana. Abbiamo concepito interventi e elaborato un progetto di manovra che guarda al breve e medio, ma anche in prospettiva e a lungo periodo, per restituire fiducia e sviluppo al Paese. Nel breve la manovra ci consente di tutelare la salute e anche la stabilità economica e mantiene un'impostazione, come si addice a tempi di recessione economica, di forte espansione. Non prevediamo aumenti di tasse, questo è molto significativo, una scelta precisa, un indirizzo politico che abbiamo perseguito fino all'ultimo. Nonostante la grave recessione economica e sociale che stiamo attraversando, non siamo ricorsi a nessuna forma di tassazione. Con apposito decreto legge, anzi, decreto fiscale, abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti delle cartelle sattoriali, che erano già pronte, erano lì per partire e li abbiamo rinviati al prossimo anno, partiranno quindi all'inizio del prossimo anno. E blocchiamo anche i pignoramenti di stipendi e pensioni in corso, sempre fino a fine anno. L'importo complessivo della manovra è di 39 miliardi di euro, 24 miliardi afferiscono alle leggi di bilancio e 15 miliardi invece afferiscono e vengono collegati e prelevati dal programma Next Generation EU. Ci sono quindi risorse significative, nonostante il contesto difficile che stiamo attraversando. Risorse significative che serviranno a rafforzare la sanità, per aiutare i settori più colpiti, per rafforzare il trasporto scolastico a livello comunale e a livello regionale. Prevediamo anche un ulteriore rifinanziamento della cassa integrazione, un nuovo ciclo di cassa integrazione. Proroghiamo anche le misure di sostegno per favorire l'accesso alla liquidità della impresa.